Amici di Canale 2 C'è dopo il Tg, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti per chi ci vede nella messa in onda pomeridiana, buonasera per chi ci vede invece nella messa in onda serale. Come sempre, sapete Canale 2 C'è dopo il Tg, va a focalizzare alcune tematiche, alcune situazioni e oggi non potevamo non fare un focus sulla visita di Matteo Salvini che ieri era qui nell'area murgiana ed era a Santeramo, ma prima ancora di essere a Santeramo aveva fatto un sit-in di protesta avanti al Policlinico di Bari. Cerchiamo di mettere ordine a tutta la giornata, a tutto il pomeriggio che Salvini ieri ha passato qui in Puglia affrontando le tematiche e i problemi del nostro territorio con il coordinatore unico regionale della lista noi con Salvini che è Rossano Sasso, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Tu sei una figura che si inserisce in uno scenario politico un po' anomalo, diciamo anomalo nel senso virgolettato, perché in politica non c'è nulla di anomalo. La Lega solitamente ha trattato tematiche, problematiche per la parte settentrionale dell'Italia, però c'era una parte di Meridionali che sosteneva sempre. Ma quelli hanno ragione, ma quelli hanno ragione. E forse Salvini da quando è entrato alla guida del movimento politico ha capito che forse è il caso di togliere i confini e affrontare un po' le problematiche su tutto il territorio nazionale. Credo un po' che sia stata questa la filosofia. Sì, noi stiamo vivendo un momento rivoluzionario della scena politica italiana, perché se a cercare di salvare 370 operai in essubero, che fra qualche mese saranno letteralmente in mezzo alla strada, deve essere il leader della Lega Nord, mentre la politica pugliese non è stata in grado di risolvere appunto questo dramma, questi quarantenni, questi cinquantenni, che purtroppo, speriamo di no, anche grazie al nostro intervento, a breve saranno, ripeto, in mezzo ad una strada, vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che qualcosa nella classe politica meridionale pugliese non è andata in tutti questi anni. Io ringrazio per quel termine anomalo, non sono un politico di professione, ma grazie a Matteo Salvini e grazie ad un principio di meritocrazia, di consenso che noi ci stiamo creando giorno dopo giorno, pancia a terra, stando al fianco della gente, il nostro movimento che si chiama Noi con Salvini sta crescendo a dismisura, siamo nati da poco tempo e la dimostrazione è che ieri a Santeramo c'erano circa mille persone in un comune che ne conta poco più di 20 mila e vuol dire che forse qualcosa di buono la stiamo facendo. Matteo Salvini ha il merito di aver capito che i problemi sono uguali a Santeramo come a Rò o come a Pavia o come a Palermo e ha capito che avendo una dimensione nazionale può davvero cercare di cambiare le cose, soprattutto perché è inutile negarlo, stiamo attraversando un periodo di finta ripresa, Renzi venisse a Santeramo a dire che siamo in ripresa o venisse ad Altamura, venisse a Bari, venisse in Puglia, chi lo sa perché non lo vediamo? O forse lo vediamo sempre blindato, neanche alla Fiera dell'Evante è venuto perché aveva qualcosa di più importante di cui parlare, doveva farsi l'ennesimo spot. Allora noi oggi facciamo una distinzione non più tra le vecchie categorie destra, sinistra, lega nord, meridionali. Oggi Matteo Salvini ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore i problemi della Puglia, cominciando dagli ospedali, cominciando dalle farneticazioni di Michele Emiliano. Andiamo per ordine, ieri pomeriggio Matteo Salvini è arrivato a Bari e c'è stato un sit-in di protesta davanti al Policlinico. È tutto nato in maniera molto spontanea, la gente pensa che dietro i grandi leader ci siano chissà quali macchine organizzative, è bastato una telefonata dopo aver letto un titolo di giornale, mai smentito quindi da Michele Emiliano in cui per far dispetto forse al suo compagno di partito Renzi annunciava la chiusura di 25 ospedali. Allora poiché sappiamo che già la sanità pugliese non è che sia il massimo nonostante le tasse che prima Vendola e poi Emiliano ci hanno fatto pagare, allora io mi sono sentito in dovere di chiamare uno di noi, uno di noi è Matteo Salvini che è venuto a Bari con l'aereo, è venuto a portare la nostra solidarietà innanzitutto al personale che lavora in condizioni pazzesche negli ospedali, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli autisti. Poi evidentemente anche alla parte più debole del popolo, cioè agli ammalati che ancora una volta corrono il rischio di pagare il conto per delle cene che hanno fatte altri. Allora noi siamo ad esempio per la standardizzazione dei costi, mi dite perché un flacone di disinfettante deve costare 3 Euro in Veneto e 10 Euro in Puglia? e su questo ha indagato anche la Corte dei Conti, mi dite perché ad esempio non è possibile fare una cartella clinica informatica? Bisogna prendere anche esempio da quelle regioni virtuose come la Lombardia e come il Veneto dove sono stati razionalizzati i costi senza tagliare gli ospedali. Poi Emiliano ieri evidentemente messo in difficoltà da Matteo Salvini ha detto che si trattava di un'iperbole la definita, l'ho fatto per vedere l'effetto che fa. Allora siccome il compito nostro è anche quello di passare attraverso la televisione tutto questo materiale, tutte queste dichiarazioni, noi adesso ci fermiamo un istante perché mostreremo ai nostri telespettatori un passaggio di Salvini proprio quando parla della sanità, se ben ricordate cerco di farvi un po' luce, poco più di un mese fa, poco prima delle festività natalizie Emiliano aveva detto che in Puglia 25 strutture ospedaliere andavano chiuse. Ovviamente questo per il riordino della sanità e per tutta una serie di costi che la regione dovrebbe cercare di ridurre perché la sanità pesa circa l'80% del bilancio regionale. Sulla base di questa dichiarazione poi sono scaturite anche una serie di proteste nel Salento, a Gallipoli stanno protestando per la chiusura di un ospedale che è abbastanza grosso. Guarda Felice c'era gente che veniva che noi non conoscevamo neanche che spontaneamente si è presentata con gli striscioni giù le mani da Fasano, Lucera, Manfredonia, Conversano dove addirittura si paventa l'ipotesi di chiudere il pronto soccorso come è successo a Santeramo, ma Emiliano eliminasse gli sprechi innanzitutto, poi si può anche pensare di accorpare qualche struttura ospedaliera, ma addirittura chiudere il pronto soccorso no. Va bene, allora sentiamo adesso il passaggio di Matteo Salvini ieri sera a Santeramo proprio sul tema della sanità in Puglia. Poche battaglie, vediamo di portarle a termine fino in fondo, oggi ho fatto un passaggio veloce anche davanti al Policlinico di Bari, perché io come tutti voi avete letto nelle scorse settimane l'ipotesi di chiusura di diversi ospedali in Puglia perché non ci sono soldi, allora ho detto no, taglia gli sprechi, non chiuderli ospedali, il mio arrivo qua se non altro è servito a che il governatore Emiliano oggi dicesse ma no scherzavo, non dicevo sul serio, ha detto la chiusura degli ospedali era un iperbole e vaglielo a dire che scherzava, ha detto lo scherzo tienitelo per carnevale che è fra poco, non scherzare sugli ospedali, se devi scherzare Emiliano scherza su qualcos'altro, non sulla salute della gente e quindi vediamo. E allora avete sentito, Salvini si è un po' arrabbiato, un po' ironizzato sulla vicenda, è un po' come scherzare con il fuoco, non si scherza su queste tematiche. Non lo so se è il caso che un governatore della regione che è anche assessore alla sanità, perché Emiliano ha mille competenze, può far di tutto, sapete, si mette a scherzare per vedere l'effetto che fa, dichiara di essere pronto alle insurrezioni popolari, poi quando cominciamo a fare queste barricate pacifiche fatte di tante persone per bene, no, no, Salvini deve leggersi le carte, allora Emiliano ce le dia queste carte, le porti in consiglio, regionale, le porti alla stampa, le avrebbe dovute rivelare il 30 dicembre, poi evidentemente ha ricevuto qualche tiratina d'orecchie dai territori amministrati dal PD e ha rinviato. Noi siamo in attesa di sapere, scusate la brutta metafora, di che morte devono morire i pugliesi, se devono per un'emergenza farsi 50 chilometri, oppure poter continuare ad avere degli ospedali. Gli ospedali vanno migliorati, noi pugliesi spendiamo il 90% della nostra economia nella sanità e non è possibile immaginare che questi soldi vadano in certe direzioni e non vengano eliminati gli sprechi, noi ribadiamo, quando conosceremo le carte continueremo la nostra azione popolare, siamo partiti da Bari, andremo in tutti i territori nell'attesa che Emiliano la finisca di scherzare sulla salute dei cittadini pugliesi. Non è che dobbiamo fare adesso una trasmissione su Emiliano, sarebbe giusto dare il diritto di replica. Ha tanto spazio sulla stampa per le sue battute, per i suoi scherzi sulla sanità, perdonerà la dichiarazione di un povero esponente della lista Noi con Salvini. A proposito, tornando sulla visita di Salvini, Salvini ieri è giunto a Santeramo e ha avuto un incontro con Pasquale Natuzzi, un incontro a porte chiuse, blindato, al quale noi operatori della stampa non potevamo prendere parte. Ma non per decisione nostra, per decisione di Natuzzi. Abbiamo rispettato questa regola un po' tutti i colleghi ieri a Santeramo, eravamo lì e attendevamo con ansia che Salvini uscisse dalla stanza. È durato tanto l'incontro, questo è un bellissimo segnale. È un bel segnale. Allora, cosa è emerso da questo incontro? Allora, innanzitutto è emerso chiaro che noi non ce l'abbiamo con l'azienda. Natuzzi ha fatto la storia, non solo della Mugia, ma la storia dell'Italia. A Pasquale Natuzzi il territorio deve tanto, ma anche Natuzzi deve tanto al territorio. L'argomento è molto serio perché ci sono, ripeto, 370 lavoratori, impiegati, operai, che sono in cassa integrazione a zero ore e a ottobre questa cassa integrazione terminerà. Allora, noi non vogliamo assistenzialismo, però dobbiamo anche trovare il modo per aiutare queste persone a poter continuare a lavorare. Noi non vogliamo l'elemosina, non vogliamo il reddito di cittadinanza, vogliamo che i maestri dei divani di Santeramo possano continuare a fare il loro lavoro, andando però, come ci ha detto Pasquale Natuzzi, a dargli una mano, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista della pressione mediatica. Per cui ben venga Matteo Salvini, si è acceso un riflettore grosso così, nessun altro leader nazionale si è speso così tanto, perché prima che venisse Salvini, comunque il movimento politico, noi con Salvini, ha organizzato tante manifestazioni con gli operai e il fatto che ieri a Santeramo ci fossero circa mille persone è una dimostrazione. Allora innanzitutto dobbiamo capire che la tassazione è elevata, ma questo è un discorso molto lungo e complesso e soltanto chi è al governo può fare ad esempio quello che noi vorremmo, cioè la flat tax al 15%, per tutti i contribuenti ci sarebbe un rilancio dell'economia fantastico. Però ripeto, noi siamo all'opposizione, allora noi vuoi più che sollevare il problema. Guarda Felice, per esempio in alcune industrie del nord, per molto meno, nel senso per numeri molto più bassi rispetto alla Natuzzi, tutta l'intelligenza di sinistra, i salotti buoni, i tuoi colleghi giornalisti, gli attori, i girotondi, hanno fatto tante manifestazioni. Tant'è vero che, ricordo le acciaierie di Terni, ricordo altre fabbriche del nord, tant'è vero che poi il problema in qualche modo è stato risolto. Per la Natuzzi, a parte qualche sindacato, a parte qualche politico locale che poi ha avuto anche il coraggio di usare toni trionfalistici per questo accordo sulla pelle di 370 operai, non si è fatto nulla. Allora ripeto, Salvini ha promesso di venire in incognito a Santera, ad Altavura a Matera, per andare innanzitutto a… Non lo anticipiamo, lo diciamo fra un po', però la dimostrazione è che noi lottiamo per difendere il popolo, gli interessi, i diritti di tanti e qualcun altro invece tutela gli interessi di pochi. La distinzione è questa, il movimento politico Noi con Salvini fa della battaglia per gli operai che nel frattempo hanno strappato la tessera della CGL, perché devi sapere che i sindacati hanno una grossa responsabilità, non tutti per fortuna, però non è possibile che tra i 370 in essubero ci siano ad esempio nuclei familiari, marito e moglie che vengono messi fuori e tra quelli che sono rimasti dentro ci sono anche marito e moglie, vorremmo capire un po' di più sulla base di quali parametri, noi non vogliamo sostituirci al sindacato, il sindacato ha tutto il nostro rispetto, però evidentemente qualcosa non ha funzionato, perché se no qualcuno ci deve spiegare 370 operai perché vanno fuori. Però Matteo Salvini durante quell'oretta in cui ha parlato con Pasquale Natuzzi ha portato a casa dei buoni risultati, non lo so se lo vogliamo sentire direttamente dalla sua voce… Sentiamo parte dell'intervento di Salvini quando parla dei 370 lavoratori, parla un po' della questione Natuzzi, ma parla anche del costo del lavoro, il costo del divano per l'azienda Natuzzi, il costo del lavoratore di 80 centesimi l'ora e Matteo Salvini parla di una situazione vicinissima alla realtà santermana in Basilicata, nella vicina Matera, dove ci sono cinesi che producono divani a costi tre volte più bassi. Sentiamo proprio il passaggio di Matteo Salvini nel quale dichiara che farà una visita, un sopralluogo in incognito per poter dimostrare all'Italia quello che accade. Magari insieme anche a qualche ispettore del lavoro, a qualche ufficiale dell'Asle, perché no anche a qualche ufficiale della Guardia di Finanza, sappiamo che loro lavorano e sono in pochi, però mi aspetto qualcosa di più. Il primo problema che mi hanno prospettato è il classico problema italiano, per cui ci sta andando di mezzo non solo il vostro posto di lavoro, ma anche altri posti di lavoro, l'abusivismo, la concorrenza sleale e quindi la cosa che farò la prossima volta senza dirlo né a voi né ai giornalisti, sarà a fare due passi, poco distante da qua, dove lavorano in nero dalla mattina alla sera migliaia di cinesi che fanno concorrenza sleale ai lavoratori italiani e alle imprese italiane. Cosa che dovrebbero sapere tutti e mi domando dove sono le autorità. mi domando dove sono le autorità e quando parlo di autorità non penso a polizie e carabinieri che fanno fino in fondo il loro lavoro, anzi se lo fanno spesso e volentieri vengono puniti per quello che fanno. E quindi non penso alle forze dell'ordine a cui va il mio ringraziamento. Però penso ai sindaci, penso alla regione, penso all'ispettorato del lavoro, penso alla ASL, penso alla finanza che va a rompere le palle per lo scontrino di due euro e non si accorge di migliaia di lavoratori che dormono dove lavorano. E quindi io lo chiedo ai sindaci del territorio, non vi state accorgendo di niente? Perché è chiaro che se il costo del lavoro dell'operaio Natuzzi per l'azienda è di 80 centesimi al minuto per arrivare al divano o a letto, mentre per la concorrenza sleale che c'è a Matera è di 25 centesimi al minuto, fate voi due conti, fate voi due conti su dove sta il problema. Qua non si tratta di inventare nuove leggi, però si tratta di avere pari opportunità per tutti. Quindi l'ho detto, la prossima volta che verrò in zona lo vedrete sui giornali o in televisione non il giorno prima ma il giorno dopo e porterò alle autorità competenti tutti gli abusi, le illegalità e lo sfruttamento di mano d'opera, magari anche clandestina, che alla luce del sole da anni accade a pochi chilometri da casa vostra. E voi vedete che se regolarizziamo questa situazione probabilmente 300 opportunità di lavoro ci saranno. Detto questo io ho lasciato il mio numero di cellulare a Pasquale Natuzzi che mi ha lasciato la mail. Ho sentito ieri, sentirò domani il Ministro Guidi. Vediamo di seguire passo passo le trattative sia per gli operai che vorrebbero continuare a essere operai di Natuzzi, sia per agevolare l'arrivo in zona di nuove aziende che magari possano offrire prospettive a qualcun altro. Mi permetto di dire sotto voce che spero che in futuro anche l'attività e l'efficacia delle sigle sindacali sia diversa rispetto a quello che abbiamo avuto in passato perché non sempre la richieda del posto di lavoro viene per la prima cosa. E vabbè, però non posso fare cinque battaglie contemporaneamente altrimenti mi fanno fuori. Ne faccio una alla volta e vedo di vincerle una per volta. E mi impegno di tornare sperando di arrivare con qualcosa, ma non mi interessano le medagliette. Io ci metto la mia piccola parte, se il governo fa il suo, se gli enti locali fanno loro, se l'azienda fa il suo, se i sindacati fanno loro, si potrà avere un Natale un pochino più sereno anche perché la cassa scade a ottobre e quindi noi assolutamente non abbiamo qualche anno di tempo per lavorare. Abbiamo qualche settimana o qualche mese di tempo al di più per dare una speranza a queste famiglie. Io so che ci sono anche nuclei familiari con moglie e marito che sono rimasti a spasso e quindi tornare a casa dai tuoi figli dicendo io fino a ottobre vado avanti e poi da novembre papà e mamma non sanno che cosa succede. Spero di tutto cuore di riuscire la prossima volta ad arrivare qua con qualche notizia, qualche contratto, qualche apertura e qualche segnale positivo per una terra che conosco ancora poco ma che mi riprometto di conoscere ancora meglio. Per salvare queste 370 persone qual è stata la sua proposta a Pasquale Natuzzi? Io ho ascoltato. Numero uno, ci sono sei aziende che hanno già presentato un piano industriale per venire a investire e assumere in zona? Sì. Bisogna aiutarle e in fretta perché i mesi che hanno a disposizione queste 370 famiglie sono pochi. Il governo è disponibile a sostenere la Natuzzi nell'innovazione che sta portando avanti per provare a riassumere nonostante la crisi del mercato interno queste famiglie? Lo chiederemo al governo e al ministro Guini in particolare. Quindi se la Natuzzi riparte dal momento negativo e arrivano nuove aziende a investire nella zona la mia speranza è che non ci siano 370 posti di lavoro ma 371. Matteo Salvini ne ha per tutti, è uno senza peli sulla lingua, tu sei uno che lo conosce molto bene da quando coordini il movimento Noi con Salvini in Puglia, devo esserti sincero anche io ho notato che è una persona a differenza di altri leader politici che se la tirano un po' lui invece è molto disponibile. Viene criticato perché è forse non troppo elegante nel suo abbigliamento ma di cosa stiamo parlando? Noi non vogliamo la forma, vogliamo la sostanza. Quindi Matteo Salvini parla al cuore e al cervello della gente da nord a sud, è un leader che viene e riesce in qualche modo a strappare una data che è quella del 3 febbraio dove insieme ad Armando Siri, il nostro economista, sarà con il ministro Guidi per cercare di strappare qualcosa di concreto perché se no noi continueremo a lottare, continueremo a battagliare. Il discorso dell'abusivismo dei cinesi è comunque collegato anche all'immigrazione. Quando Salvini e noi sul territorio diciamo prima gli italiani, non è soltanto per le case popolari, non è soltanto per una questione di sicurezza, considerando tutte le brutte notizie che si stanno sentendo in queste ore, è proprio di qualche ora fa la notizia che anche a Taranto, a pochi chilometri da qui, una donna di 33 anni sia stata molestata all'uscita di una palestra da 4 cittadini non ancora identificati, forse richiedenti asilo, forse aspiranti profughi o forse semplicemente grandestini, ma è il caso evidente che la mano d'opera dei cinesi abusiva con la complicità di qualche delinquente italiano danneggia, danneggia le nostre famiglie, danneggia i 370 operai. Salvini sta lanciando una sfida sulla nostra scena politica, lui è il leader del centrodestra, il messaggio splendido della manifestazione unitaria di tutto il centrodestra di Bologna dell'8 novembre, è chiaro, innanzitutto solo se si è uniti si vince, ma il centrodestra deve anche ringiovanirsi, deve rinnovarsi, non soltanto dal punto di vista anagrafico, ma soprattutto dal punto di vista dei contenuti, a noi interessa una Forza Italia più forte e rinnovata, a noi interessa assolutamente un buon rapporto con Fratelli d'Italia e con tutte le altre formazioni che si riconoscono in un'alternativa seria e credibile, concreta a Renzi, perché poi c'è anche il 5 Stelle, ma io non la considero un'alternativa, la considero una stampella del governo Renzi e del PD, basti pensare che hanno votato a favore, insieme, Movimento 5 Stelle e PD, ad esempio dell'abolizione del reato di clandestinità o ancora peggio, se possibile, a favore delle adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali. Noi siamo per il rispetto e il diritto di tutti, delle coppie gay, i diritti civili, va bene, ma le adozioni alle coppie gay ci sembra un salto nel buio, un salto nel vuoto etico e a livello di contenuti. Ecco perché poi Movimento 5 Stelle, tanto alternativa, non la vedo, imparasse a selezionare la propria classe dirigente, considerando che dove amministrano combinano sfaceli, salvo poi addirittura essere coinvolti in indagini che riguardano la la politica si regge anche sui numeri. La Puglia è una regione che ha sempre mostrato in termini di risultato elettorale un orientamento verso la destra, anche perché la Puglia è tutto sommato una regione dove c'è una grande imprenditorialità, c'è un grande livello di autonomia economica, non è una regione che vive con l'assistenzialismo. Forse un tempo, scusami. La politica si regge sui numeri, non credi che Salvini abbia puntato questa scalata al meridione d'Italia partendo dalla Puglia che è una regione molto simile al Veneto? Salvini viene in Puglia perché dalla Puglia c'è qualcuno che lo chiama, adesso andrà anche a Napoli dove gli amici Cantalamessa e Grant stanno preparando una splendida campagna elettorale visto che a Napoli si vota. Salvini va dove lo chiamano, se da Santeramo chiamano Salvini è perché forse Vendola, Emiliano, Renzi, tutti gli altri non hanno risposto, quindi lui va dove viene chiamato. Per quanto riguarda quello che dicevi prima, sì è vero la Puglia ha storicamente una tradizione di centro-destra, ma oggi nel 2016 non possiamo più distinguere centro-destra da centro-sinistra, all'ilà della collocazione giornalistica, perché oggi noi dobbiamo distinguere tra produttori e assistiti, tra chi difende le elite e chi difende il popolo, tra chi fa i provvedimenti che aiutano le banche dove magari c'è un papà di un ministro che siede in Parlamento e chi invece si batte per gli operai della Natuzzi. Tra i miei iscritti, tra i nostri militanti c'è tanta gente che ha votato a sinistra, ormai stiamo andando verso uno scenario politico completamente diverso, c'è gente che ha votato per una vita alleanza nazionale, c'è gente che ha votato anche 5 Stelle, perché all'inizio i 5 Stelle erano affascinanti, tutta questa alternativa però poi messi alle prove dei fatti, cioè ad amministrare le città, si sono rivelati un blef, mentre il partito di Matteo Salvini, che al sud si chiama Noi con Salvini, ma al nord si chiama Lega Nord, amministra regioni come la Lombardia e come il Veneto in maniera esemplare. All'irà della sanità in Veneto ve ne dico soltanto una, la regione Lombardia ha rinnovato il sussidio di 400 Euro al mese per i genitori separati, in Puglia questo c'è? O il sussidio viene dato a clandestini, a richiedenti asilo, a profughi? La differenza è tutta là, loro mettono prima gli italiani, noi mettiamo prima i clandestini, neanche i profughi, perché il profugo ha diritto ad essere assistito, però i dati del Viminale ci dicono che su 100 soltanto 10 hanno effettivamente il diritto e gli altri 90 che fine fanno? Li vediamo, li vediamo in giro, per fortuna da queste parti il problema non è tanto sentito, però basta andare a Bari, al Cara di Bari, dove quotidianamente scavalcano, vanno in giro, picchiano gli autisti dell'autobus? Speriamo che non si ripete il fenomeno di Colonia, dove in massa mille, mille immigrati, tutti appartenenti ad una particolare fede religiosa, hanno trattato le donne per quello che la loro religione impone, cioè le donne vengono considerate come degli esseri inferiori, allora c'è anche una battaglia culturale, è anche un baluardo se vogliamo della cristianità, Matteo Salvini, al di là della difesa dei territori, dei valori e della tradizione, noi ci poniamo veramente, Matteo Salvini, come leader nazionale nonostante appartenga ad un partito che era contrario a questo, però noi apprezziamo il cambiamento in questo senso e chiediamo a tutto il centro-destra di ricompattarsi a partire dalle prossime amministrative, la tornata elettorale pugliese non è di quelle esaltanti perché non ci sono capologhi di provincia, non ci sono comuni molto grandi, però è un segnale che da lì cominciando a piazzare le bandierine e noi con Salvini avrà i propri candidati sindaci, insieme alle altre forze di centro-destra cercheremo di cominciare a rispostare l'equilibrio verso un'alternativa a questa sinistra che neanche tanto più si può definire sinistra, ma che è il partito delle lobby, degli affaristi e di gente che sta massacrando i nostri territori. Rossano Sasso, coordinatore regionale di Noi con Salvini, era l'ospite di oggi in questa puntata, il tempo che avevamo a disposizione è purtroppo limitato, quindi dobbiamo contenere tutto all'interno. Se mi invitate io ritorno volentieri. No, no, guarda, l'unica promessa che ti voglio strappare è che un eventuale ritorno di Salvini nel nostro territorio ci piacerebbe documentarlo. Lo portiamo qui però in incognito, perché sennò poi i cinesi scappano e continuano a fare produzioni abusive. Perché ci piacerebbe un po' capire com'è questa situazione, perché questa è un'area dove io personalmente le ho chiesto a Salvini, grazie al salotto noi abbiamo fatto un tuffo dal paradiso all'inferno, in un arco temporale di 15 anni siamo passati da un territorio che aveva una disoccupazione sotto il 3% a un territorio che ha una disoccupazione vicino al 30% e vogliamo un po' capire come mai questo territorio di colpo ha avuto questa grande depauperazione del sistema economico, c'è qualcosa che non è andato nel senso... Ci sono molte cause, alcune strutturali come dicevamo prima, altre legate a scelte sbagliate. Bene, ringraziamo Rossano Sasso, ringraziamo voi per averci seguito, ringraziamo anche gli sponsor che credono nella nostra piattaforma mediatica e salutiamo lo studio di consulenza fiscale, tributaria e aziendale, Lorusso Consulting e il centro per la fornitura di pellet, Dionisio Roturno Pellet sulla provinciale per Coranto. Grazie anche a loro, grazie a voi per averci seguito, vi ricordo come sempre Canale 2 c'è tutti i giorni alle 14.30, la replica poi in serata alle 22.30, è tutto anche per oggi, a domani.